ciao a tutti ragazzi oggi iniziamo una mini serie di due video in cui parlare di arva sonda e pala perché ve ne parlo che sono strumenti principalmente da sci alpinismo perché non solo lo sci alpinismo è pericoloso d'inverno ma anche il trekking e le ciaspolate possono diventare pericolose se andiamo in ambienti particolarmente aperti quindi è sempre buona cosa portarsene dietro e soprattutto sapere come utilizzarle nello specifico in questo video parleremo dal punto di vista teorico di cosa sono quali meglio comprare e come le caratteristiche che hanno nel successivo video che uscirà la settimana prossima andremo con una guida alpina a fare una prova sul campo ma adesso iniziamo subito la lezione teorica e iniziamo parlando dell'arva l'arva serve per trovare le persone che dovessero finire sotto una valanga e farsi trovare perché è un'arva quando noi accendiamo iniziamo la nostra escursione andrà come trasmettitore quindi trasmetterà il segnale nel caso in cui dovessimo andare a cercare una persona che finita sotto una valanga l'arva mettendola al ricevitore si utilizza per cercare la persona quindi l'arva della persona che è stata sepolta emetterà il segnale la nostra arva messa dal punto di vista di ricevitore andrà a ricevere il segnale della persona sepolta e ci dirà indicazioni e a quanti a quanto distanza siamo che caratteristiche a un arva innanzitutto troviamo dei tipi di arva che sono analogici e digitali personalmente vi consiglio di andare direttamente su quelli digitali per quelli analogici post dato che sono di solito abbastanza datati possono avere dei problemi di comunicazione con degli arva digitali quindi può essere che non riusciate a ricevere o prendere il segnale un arva digitale quindi personalmente vi consiglio sicuramente di passare se avete un'arva analogica al digitale comprare direttamente quella troviamo uno schermino sul quale troveremo i metri che ci visualizzerà l'arva una volta che andremo a cercare una persona e la caratteristica sul quale io mi soffermerei soprattutto nel momento in cui dovrei andare a comprare un arva sul numero di antenne mi spiego meglio naturalmente un segnale per essere trasmesso ha bisogno di un'antenna come può essere il segnale televisivo segnale dei telefoni anche allo stesso modo anche l'arva ha dentro un'antenna esistono dei modelli di arva con una singola antenna questo tipo di arva nel momento in cui andiamo a ricevere il segnale avendo una sola antenna ci dà la distanza dalla persona sepolta ma non ci dice la direzione quindi saremo noi che dovremo iniziare a muoverci e in base a quando diminuiranno i metri a quando aumenteranno capiremo più o meno in che direzione andare a muoverci perciò io vi consiglio di puntare sull'arva a tre antenne ovvero una volta che noi andremo a ricevere il segnale della persona sepolta larva a tre antenne cosa fa oltre a darci la distanza rispetto alla persona sepolta ci dà anche la direzione quindi avremo una freccia che ci indicherà se andare a destra sinistra avanti e indietro perché riuscirà a captare anche la posizione nella spazio di dove sta la persona sepolta e questo fidatevi dal momento in cui abbiamo un'arva che ci dà sia i metri sia la direzione ci facilita tantissimo il tempo di ricerca e soprattutto la difficoltà di ricerca della persona cosa altro guardare in un'arva quando dobbiamo andare a comprarla sicuramente la portata ovvero per quanti metri l'arva riesce a trasmettere il segnale per quanti metri l'arva riesce a raggiungerlo ci sono dei dispositivi arva che tirano 50 metri quindi se la persona sepolta sta a 50 metri io la trovo se sono a 60 metri con un'arva che ne tira 50 non la trovo dovrò muovermi in avanti di 10 metri andando a zigzag come vedremo per successivamente riuscire a captare il suo segnale e iniziare la ricerca se la persona è stata sepolta mettiamo che si trova a 70 metri da noi e noi abbiamo un'arva che tira 70 metri potremmo subito trovarlo e quindi iniziare subito la ricerca senza dover girare per 20 metri a zonzo nel tentativo di trovare il segnale quindi teniamo conto che più l'arva riesce a captare il segnale e a emetterlo minor tempo andremo ad utilizzare nella ricerca e quindi più facile sarà trovare la persona e soprattutto ci sarà anche più possibilità di trovare la persona viva l'ultimo upgrade per quanto riguarda gli arva sono dei dispositivi che oltre a visualizzarci la distanza e la direzione ci danno anche un aiuto vocale nel senso l'arva parla e mi dice mancano 15 metri mancano 12 metri mancano 10 metri è una nuova feature che stanno implementando le case può tornare utile come può non tornare utile io ve lo segnalo se può interessarvi sapete che esiste passiamo ora a parlare della sonda a cosa serve una volta che noi avremo localizzato attraverso l'arva la persona magari questa persona sarà due metri sotto la neve un metro sotto la neve e l'arva comunque può avere un margine di errore quindi può sbagliare magari di 20 30 centimetri noi utilizzando una sonda andremo a sondare il terreno inserendo la sonda sotto la neve per andare a sentire dove sta precisamente la persona quindi andremo a montare la sonda e piano piano sonderemo sul come sondare lo vedremo nel prossimo video quando andiamo a comprare la sonda cosa dobbiamo tenere in considerazione beh diciamo che le sonde più o meno sono tutte uguali quello che cambia sono i materiali con cui sono costruite e l'altezza della sonda di solito le sonde vengono vendute con un'altezza dai due metri a due metri e cinquanta e basta non c'è bisogno di prendere quattro metri di sonda e poi il peso la cosa che ne fa la differenza è il peso ci sono delle sonde molto leggere che però hanno magari un prezzo più alto delle sonde più pesanti con un prezzo inferiore in questo caso la sonda va bene qualsiasi passiamo ora a parlare della pala allora le pale vengono vendute di solito che si smontano per poterle inserire nello zaino noi abbiamo dei piccoli gancetti che andremo a inserire per montare la nostra pala esistono vari tipi di pale in commercio anche qua il peso fa la differenza molte volte esistono delle pale più o meno grandi fatte di determinati materiali che pesano di più o pesano di meno anche qua di solito il peso la discriminante del prezzo quelle che pesano di meno costano di più e viceversa una cosa che però vi consiglio di guardare quando andate a comprare la pala come diceva una certa persona nella storia datemi una leva vi solleverò al mondo lo stesso principio vale per la pala ovvero noi dovremmo andare a scavare fidate che la neve pesa più sarà lunga la nostra pala più il manico della pala sarà lunga meno fatica faremo infatti esistono delle pale che si allungano il manico così da poter avere maggior manico e poter fare un movimento di estrazione migliore e dato che tirare fuori la neve è molto pesante stancarci di meno soprattutto se siamo da soli magari la persona è sotto terra di un metro e dovremmo iniziare da soli a scavare quindi tiriamo le conclusioni cosa vi consiglio di acquistare io personalmente vi consiglio di andare a prendere kit già pronti per un semplice fatto di prezzo di solito i kit già pronti hanno un buon rapporto qualità prezzo questo banalmente è un kit di ortovox che si trova più o meno 300 euro in cui abbiamo tutto il nostro set e sia larva ha un buon tiraggio la sonda è comunque abbastanza leggera e la pala funziona bene lo provate funziona abbastanza bene naturalmente trovate il link a questo set in descrizione ma online ne potete trovare tanti altri quindi ragazzi nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo io vi do appuntamento al prossimo video della serie in cui capiremo come utilizzare nel concreto larva la pala e la sonda e soprattutto mi raccomando da oggi in poi per le escursioni invernali non dimentichiamole a casa io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao